torme di immagini due novembre il giorno dei morti campane 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 nel mio paese giungevano come echi di voci lontane che da un mondo oscuro piombavano nel fondo del cuore erano torme di immagini tristi di cari defunti che non perdonavano ai vivi l'oblio perché commento perché molti vivi non sanno che il dopo morte è benessere per quasi tutti quelli che giungono dalla bassa condizione umana